buongiorno a tutti cari amici siamo in questo mercoledì 26 agosto 2020 oggi voglio parlarvi con questo mio video della ang in radio trani radio staffetta con categoria cultura e società che è un progetto quindi una radio sfruttata attraverso l'agenzia nazionale giovani con cui appunto un gruppo di forze fresche green di legambiente e anche altre associazioni si impegnano si impegneranno si stanno già impegnando per la produzione di podcast per trattare temi solidali e soprattutto l'impegno dei giovani nella ricerca di opportunità di impiego lavorative e ma io qui in questo video ora che lo sto registrando vi metterò comunque il link perché potete trovare il podcast il primo podcast sulla pagina spriger c'è anche il link spotify quindi insomma c'è per ora sì ce n'è solo uno ma sono in calendario tanti altri podcast con un minutaggio abbastanza sostenibile tra i protagonisti ci sono anche io con non vi voglio rivelare quale tipo di podcast andrò a fare ma comunque spero che quando sarà reso e sono comunque in attesa di effettuare la mia registrazione con la responsabile spero che questo progetto vi piaccia è un progetto ovviamente prendendo in considerazione appunto giovani forse under 30 però sono bene accette tante idee quindi a meno vi resta ora che salutarvi vi consiglio di ascoltare questa prima puntata del podcast vi auguro un buon ascolto condividerò ovviamente tutto questo anche sul mio profilo facebook perché se volete darci una mano cari amici noi siamo qui siamo a vostra disposizione potete anche voi condividere sui vostri profili social ne saremo gradi questa radio se affetta che avrà sede ovviamente adesso in fase un po' di allestimento in via Nigro qui a Trani uno spazio dove appunto man mano col tempo sarà adibito per registrare e fare eventi grazie a tutti buon proseguimento di giornata e alla prossima ciao